Indicibili MT Ayers, è arrivato dicembre e il catalogo Netflix si è riempito de botto. Preparate il vostro pennino digitale che si va con le novità in uscita, yuhuu! Fermate un attimo la vostra impazienza perché vorrei parlare brevemente di alcuni prodotti già usciti su cui avrei voluto fare una micro recensione, almeno, ma che il tempo è tiranno e io non sono qui a pettinare le bambole. Ma al massimo a bruciarmi i miei ultimi neuroni. Inizio con Arcane, anime dalla grafica e animazione incredibile ambientato nel mondo videoludico di League of Legends. Dopo le prime cinque puntate risulta essere interessante anche se non certo innovativo come trama, ma presenta bene i personaggi anche se fa succedere cose perché devono succedere. Alla fine è per me un buon diversivo dalle solite serie più blasonate. A proposito di serie blasonate, ho guardato le prime puntate del live action su Cowboy Bebop. Ora prendo fiato perché anche io non credo a me stesso, mi sta piacendo abbastanza. Sto divorando le puntate e nella mia testa si sovrappongono quasi identiche le immagini e azioni dell'anime originale. La storia non è proprio identica identica, ma i personaggi sono caratterizzati come devono, le ambientazioni sono assurdamente identiche e, cosa più importante, non hanno snaturato lo spirito di quel mondo. Non vorrei sbilanciarmi, ma se tutti i reboot o adattamenti live fossero fatti così, non ci troveremo certo cose come Discovery o Fondazione. Un applauso a Netflix che ha osato e ha vinto sul pubblico originale e sull'opera probabilmente. Capisco però che a qualcuno di più giovane magari possa non piacere così tanto, ma è comunque da vedere. In ultimo voglio parlare del sommo zero calcare, che con strappare lungo i bordi ascende al mio limpo personale, di autori che riescono nello stesso tempo a far ridere, intrattenere, commuovere, crescere ed entrare dentro se stessi in quel mondo di paure e traumi che tutti ci portiamo dentro. Lo fa con una semplicità che il mio scorso video che vi lascio qui in alto sembra fatto da un pirla, ma lui è il sommo. Grazie zero calcare per aver trovato questo equilibrio da funambolo in un'opera tanto profonda. 15 minuti d'applausi meritatissimi. Invece non ho proprio avuto tempo per Hellbound e già mi rode dentro, perché sento voci dalla quarta parete che dicono che è veramente valido. Adesso ho finito il mio tempo di recap e via che si va con le novità. La prima uscita del mese che mi va di segnalarvi è Il Serpente Verde, un film d'animazione cinese in arrivo il primo dicembre, che avevo già adocchiato nell'anticipazione dei titoli di coda di Nature Reborn mesi addietro. La storia è quella di una ragazza che, mentre salva la sorella combattendo contro un super cattivo, viene spedita in una città contemporanea ma distopica, piena di mostri che combattono tra loro e lei dovrà ritrovare la via per tornare nel suo mondo e salvare la sorella. Sembra interessante, anche se graficamente forse un po' spigoloso. Per cambiare prospettiva, magari, può essere giusta la visione. E qui ora minchino all'uscita di Asakusa Kid, prevista per il 9 dicembre. Film tratto dal libro omonimo di Takeshi Kitano, che narra le sue disavventure tragicomiche giovanili che lo hanno portato a diventare noto Beat Takeshi e mio idolo personale. Episodi di vita reale, grottesca e assurda in un Giappone a cravallo tagli anni 70 e 80, tra ballerine di uno strip club e il suo mentore Fukami, ormai in declino, che intrattiene il pubblico. Un film che è arrivato a sorpresa per me e che mi ha fatto letteralmente trassalire dalla voglia di vederlo. Purtroppo il libro in italiano è introvabile, quello giapponese per me è ancora altamente illegibile. Se mai voleste farmi un dono, io non ho detto nulla. Grande Kitano! Ora cambio proprio genere abbandonando l'Asia e passando negli USA con The Unforgivable in arrivo il 10 dicembre. Film uscito il mese scorso in sala che, visto altre uscite per me più interessanti, guarderò proprio tramite Netflix. La protagonista è Sandra Bullock, che interpreta un'ex detenuta che viene rilasciata dopo 20 anni. Nulla di che se non fosse per il fatto che viene minacciata di morte per quello che sembra aver fatto 20 anni prima. Ma cosa ha realmente fatto per meritarsi tutto questo? Ha ammazzato un po' di persone e questo film ricostruirà appunto quelle vicende che lasciano tante sfumature. Il cast poi vede anche Vincent Donofrio e John Brantall e non mi sento di evitarlo proprio no. Arriva il momento di un filone dalla valenza storica. La first man in arrivo il 10 dicembre è totalmente dedicata a Neil Armstrong, interpretato da un Ryan Gosling molto in palla e alla sua personale corsa alla luna. Per me è il miglior lungometraggio dedicato ai 50 anni del primo uomo sul nostro satellite. Io sono rimasto colpito da come siano riusciti a creare quel giusto livello di tensione e introspezione nella vita personale dell'uomo. Il film è quindi riuscitissimo, anche se forse non fedelissimo al 100%, una visione da non perdere. Torniamo sulle sponde giapponesi per l'arrivo della quarta stagione di Aggretsuko, il 16 dicembre. La nostra tigrottina, sì lo so che è un panda rosso, ma la vedo troppo interpretata in un live action da Yuriko Tiger, quindi... Insomma, dicevamo, dopo che le prime tre stagioni hanno sollevato il vaso di Pandora sul mondo del lavoro giapponese e come vengono trattate le donne, questo anime, anima di forme, continua con la sua graffiante satira della società e bisogna dire che i modi sono veramente coinvolgenti e i personaggi ben fatti. Spero che non si perdano troppo e mantengano la retta via. Vogliamo più metal giapponese e ancora tante realtà della vita giapponese che in pochi conoscono. Finalmente ci siamo, la seconda stagione è programmata per il 17 dicembre, The Witcher è tornato. Datemi due monetine che facciamo partire la canzoncina. C'è tanta attesa per questa serie Netflix, indubbiamente ben riuscita, che ha visto anche un bel film d'animazione antecedente che fa capire cosa sia successo subito prima dell'arrivo del nostro Geralt. Anche qui Netflix sta riuscendo veramente a creare un bel seguito di fan giovani e non è una cosa di poco conto. Io ho apprezzato la prima stagione e attendo questa con curiosità, visto che penso che possano svaccare con poco. Però vediamo cosa ci aspetta, perché la prima ci ha lasciato comunque diverse cose in sospeso dal potenziale elevato. Il botto finale del mese arriva proprio il 31 dicembre con Cobra Kai e l'uscita della quarta attesissima stagione. Anche questo un reboot incredibilmente ben fatto che anzi forse supera i film originali, perché permette di vedere meglio le sfumature dei personaggi. Ora poi abbiamo finalmente Daniel e John che si uniscono, assieme ai loro giovani allievi, per fronteggiare il ritorno di Terry Silver e del dojo Cobra Kai, ora totalmente in mano a Kryze. Se ne vedranno delle belle e grazie anche a YouTube Red e Sony che all'epoca lanciarono questa serie ora su Netflix. Siete infine giunti anche alla fine di questo video, ma come sempre ho lasciato qualche altro consiglio per la fine. Prima però dovete mettere assolutamente mi piace, guardate che vi osservo, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina. Io come sempre ve ne sarò estremamente grato e il traguardo dei mille iscritti è sempre più vicino. Dimenticavo poi di dirvi di spammare senza pietà a tutti i vostri amici, vicini e colleghi questo video per distrarli dalle loro faccende e trascinarli nel mondo dello streaming senza dissoluzione di continuità. Adesso però gli ultimi consigli e si va con la terza stagione di Lost in Space, in arrivo il primo dicembre. Serie d'avventura tutta dedicata alla famiglia, che non è chissà che, ma a tempo perso non è male. Abbiamo anche la dodicesima stagione di Archer, sempre il primo dicembre, e se vi piacciono le spie e soprattutto la comicità estrema e anche volgare, allora è la serie top. Anzi, come mai non l'avete ancora vista? Poi, senza bisogno di presentazioni, la seconda parte della Casa di Carta, il 3 dicembre, che chiuderà tutta la storia, finalmente. In ultimo, il film sul Joker, con Joaquin Phoenix, in arrivo il 6. Anche qui poco da dire, bel film, ma per me sopravvalutato un po'. Adesso non vi resta che aspettare gli altri video di anticipazione, quindi alla prossima MT Ayers. Ciao! Grazie a tutti!